Mai un turista va a scegliere una località andando a controllare quant'è l'imposta di soggiorno, ma controllerà se in quel territorio ci sono dei servizi. Risponde così Mario Nunez alle critiche innalzate nei giorni scorsi da alcune associazioni di albergatori e dalle opposizioni riguardo l'aumento e la destagionalizzazione della tassa di soggiorno nel comune di Roseto degli Abruzzi. Un'operazione per far cassa secondo questi ultimi, mentre per il primo cittadino resta una tassa di scopo per effettuare manutenzioni mirate sempre nell'ambito del turismo come l'avvio del servizio del bus navetta. Si innalza in maniera lieve e si allarga gradualmente il periodo che alcuni comuni già hanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Noi per non avere un impatto troppo duro abbiamo scelto per quest'anno dal 1 aprile al 31 ottobre, ma l'obiettivo è proprio quello di allargare, di destagionalizzare, di dimostrare con i fatti che noi lo utilizzeremo al meglio. Poi un messaggio agli albergatori che avevano chiesto addirittura l'abolizione della tassa di soggiorno. Venite, parliamo, incontriamoci e dialoghiamo. Come abbiamo fatto d'altronde dal primo giorno dell'insegnamento, questa categoria, questa associazione l'ho incontrata, nonostante ovviamente sono stati anche candidati con coalizioni avverse, ma questo non è un problema perché per quanto mi riguarda io sono il sindaco di tutti, ma se la critica è strumentale e si dicono cose false, che si metterà in ginocchio un sistema, questo rimando al mittende, non si mette in ginocchio nessun sistema. A differenza della scorsa amministrazione, questa allargherà il tavolo tecnico anche ai commercianti che sono parte integrante del turismo in città. Noi siamo invece per riallargare in maniera positiva e costruttiva a tutti coloro che hanno però una costituzione reale, cioè a coloro che rappresentano davvero qualcuno e che esistono, cioè per esistere devi avere uno statuto, devi essere costituito e soprattutto devi avere anche una base che ti va a rappresentare. Grazie. Grazie.